Benvenuti a Salute Sanità da Eva Perasso, oggi parliamo di invecchiamento del nostro volto soprattutto e di naturalezza dei risultati. Lo facciamo con due ospiti che ringrazio per essere venuti oggi, alla mia destra dottor Massimo Renzi, è venuto dottor Renzi, specialista in chirurgia plastica, alla mia sinistra è dottor Gabriele Bo, medico estetico. Buongiorno. Dottori, vi ho chiamato anche perché so che lavorate insieme e già collaborate e il vostro lavoro congiunto spesso porta a ottimi risultati, il più naturale possibile, perché è qui e di questo che vogliamo parlare, vogliamo un po' mettere da parte quella che era un po' anche la moda del passato dottor Renzi, di questi interventi spesso di chirurgia plastica che portavano a dei risultati altamente visibili e importanti. Cominciamo però dalla nostra pelle, allora chiedo al dottor Gabriele Bo di aiutarci a capire come possiamo contrastare il suo invecchiamento. Sì, dunque, parlando di invecchiamento è importante innanzitutto conoscere i meccanismi con i quali la pelle, la nostra pelle, gli strati più superficiali si difendono appunto dai danni del sole, dell'invecchiamento e quindi mentre l'epidermide ha un ispessimento proprio per difendersi da questi insulti, dei danni solari, a livello dermico abbiamo un assottigliamento del tessuto che è dovuto a una disidratazione, un calo dell'elastina, delle fibre collagene e quindi è importante andare ad agire sui differenti piani con tecniche diverse e con protocolli combinati. I tessuti si assottigliano, quindi è quello che accade invecchiando e si arriva dal medico estetico in questo caso per una prima diagnosi, possiamo dire così, sull'invecchiamento e dopo di che si può agire anche senza intervenire chirurgicamente proprio con dei trattamenti di medicina estetica. Assolutamente, infatti è importante dal momento in cui abbiamo una prima visita con una paziente valutare quello che è il grado di invecchiamento con l'ausilio anche di macchinari, di un check-up cutaneo e a seconda delle problematiche che dobbiamo affrontare che possono essere anche un accumulo di melanina, quindi macchie solari piuttosto che le teleangiectasie comunemente dette capillari. Possiamo utilizzare delle tecniche che sono nate con la medicina estetica e si sono evolute nel tempo, infatti oggi sono ancora molto attuali proprio per la loro efficacia e per l'evoluzione dei prodotti che oggi possiamo utilizzare. E per quanto riguarda l'epidermide utilizziamo degli acidi che vanno a dare un'esfoliazione controllata, infatti li chiamiamo peeling che è proprio dall'inglese. Se ne parla parecchio ci sono anche quelli un pochino più fai da te casalinghi, in realtà qui stiamo parlando di un vero e proprio trattamento. Peeling medicale che chiaramente va a contrastare questo ispessimento dell'epidermide, mentre invece a livello dermico possiamo utilizzare tramite un ago sottilissimo, possiamo introdurre dei prodotti che i biorivitalizzanti, i medici più, i colleghi più... È un'altra parola che si comincia a sentire, la biorivitalizzazione, è così. Di cosa si tratta proprio nello specifico e soprattutto la domanda, lato paziente fa male? Ma allora, si possono utilizzare delle creme anestetiche, un pochino di ghiaccio per ridurre il fastidio, però non è un fastidio particolarmente... appunto l'ago è molto sottile, siamo superficiali, quindi chiaramente è preferibile un aperitivo con le amiche, però non è un fastidio eccessivo. I colleghi più anziani di me spesso comunicano, cioè la richiesta della paziente è dottore mi faccia le vitamine, perché la biorivitalizzazione prima era proprio un cocktail dove le vitamine erano l'ingrediente principale. Oggi con l'evoluzione degli acidi ialluronici possiamo utilizzare degli acidi ialluronici più fluidi rispetto ai filler, che sono dei veri e propri gel, hanno dei legami molecolari che li rendono gel, quindi volumizzano, mentre invece nelle biorivitalizzazioni utilizziamo appunto questi acidi ialluronici più fluidi che però vanno a dare proprio una bioristrutturazione, una bioridensificazione dermica. I risultati sono migliori, più duraturi anche nel tempo? Eh sì, è proprio una terapia della pelle, una pelle bella, una pelle sana, quindi agiamo in questa maniera con i peeling a livello epidermico, a livello dermico con i bioristrutturanti. Poi altra cosa di cui si parla tanto, so che ne l'uso, è il laser, sempre in questo caso. Il laser è molto utile appunto sulle macchie cutanee in combinazione con i peeling e sui capillari. Per questo motivo è importante valutare la paziente che abbiamo di fronte e impostare un percorso, un protocollo terapeutico personalizzato proprio per la situazione che dobbiamo affrontare, quindi a seconda del fatto che ci siano macchie, capillari, un cedimento tessutale importante, un invecchiamento più o meno marcato. Ecco, sia questa tipologia di trattamenti che sono propriamente della medicina estetica, sia quelli magari anche più chirurgici oppure altri tipi di trattamenti, debbano portare a un risultato che ormai, ve lo diceva il dottor Renzi, dietro le quinte deve essere il più naturale possibile. Siamo nella città, un po' dell'understatement, della naturalezza. La Liguria è famosa per non avere dei risultati troppo importanti. Lei lo saprà perché ha tante pazienti che la vengono a trovare. Ma indubbiamente nel genovese la richiesta principale è quella di essere naturali, a differenza di altre città come può essere Milano e Roma, in cui è un vanto andare dal chirurgo plastico, dal medico estetico e avere questi risultati magari anche eccessivi. Invece a Genova bisogna essere più naturali possibile, infatti le richieste sono di mantenere la propria fisionomia e soprattutto che non se ne deve accorgere nessuno nella vicina di casa, ma vedere soltanto un miglioramento dell'immagine. Per fare questo oggi le tecniche sono variate, nel senso che si è sicuramente molto meno invasivi e nello stesso tempo abbiamo degli strumenti che possono aiutarci a dare questi tipi di risultati. Quando ho iniziato vent'anni fa effettivamente avevamo poche armi, avevamo i peeling, o se no passavamo alla chirurgia più estrema. Alla chirurgia più importante. Oggi la chirurgia rimane a livello importante e anche le tecniche chirurgiche si sono evolute perché sono sempre meno invasive. e nello stesso tempo sono nati dei volumetrici per riuscire a ridare, e sto parlando di acidi ialuronici, di idrossiapatite di calcio, che riescono a dare, diciamo, a ripristinare i volumi, perché nell'invecchiamento, come tutti noi sappiamo, abbiamo una riduzione dei volumi del volto, quindi andare a ripristinare questi ridiamo, diciamo, una proporzione al nostro volto. Quello che è importante è riuscire a inquadrare il paziente, a diventare complice col paziente, perché anche noi stessi dobbiamo capire effettivamente che abbiamo davanti e cosa vuole. e nello stesso tempo progettare e pianificare un trattamento o più trattamenti che poi nel tempo possano essere seguiti. Perché noi quello che offriamo è un percorso, perché fare, mi consenta, la fialetta tanto per farla, oggi non è più accettabile. Bisogna invece cercare di riuscire a programmare per poi avere un risultato nel tempo. Certo. Una domanda, una curiosità. Spesso la donna si vede la piccola ruga sul volto, magari tra gli occhi, piuttosto che intorno alle labbra. Ma qual è la cosa più importante su cui agire? Se una persona dovesse scegliere, comincio da lì. Da cosa fai? Allora, generalmente come approccio, io sento sempre, ascolto la paziente, per sapere effettivamente quali sono le sue esigenze. Poi consiglio effettivamente quello che può essere il plus per la paziente. Indubbiamente, per me una delle zone principali è la zona perioculare, l'occhio. Lo sguardo. Lo sguardo. In quanto spesso quando ci guardiamo allo specchio, guardiamo la periferia del nostro volto, però se una persona ci guarda, ci guarda negli occhi. Quindi migliorare la regione dello sguardo, sicuramente dà quel qualcosa in più alla persona. Quindi, e poi dallo sguardo si può passare al resto del volto. Al resto del viso al décolleté. Altro mito un po' da sfatare, questo mi ha stupito nella nostra chiacchiera, è quello di a che età si può, per chi volesse, cominciare a provare a ringiovanire con qualche piccolo trattamento. A che età? Allora, visto la biocompatibilità di tutti i vari prodotti che oggi ci sono, prima si inizia naturalmente intorno ai 30-35 anni e con pochi trattamenti, anche trattamenti una volta all'anno, indubbiamente fa in modo che non si formino le prime rughe e si arriverà a una quarantina, cinquantina d'anni in cui non dovremo agire in maniera più invasiva. Quindi manteniamo nel tempo... Sta sfatando un mito, perché davvero si immagina sempre che l'età tra i 30-35-40 non sia un'età in cui c'è bisogno di andare... In effetti, quello che noi dobbiamo entrare nel meccanismo è di prevenire e quindi fare giustamente dei peeling, delle biorivitalizzazioni, piuttosto che magari il botulino una volta all'anno, invece che due volte all'anno, o ripristinare nei dimagrimenti i volumi del volto, se uno è dimagrito. Mi viene in mente soltanto una cosa. I culturisti, gli sportivi, sono giovanissimi, però facendo diete iperproteiche hanno il volto che soffre. Questo segnato, è vero. E quindi riuscire a contrastare questa riduzione di volume fa sì che poi il volto si mantenga. Certo, certo, molto chiaro. E allora, l'abbiamo detto, siamo nella regione, nella città, noi qui a Genova, d'Italia, dove forse si tiene di più, diciamo così, alla naturalezza dei risultati estetici, in questo caso, sul nostro volto rispetto all'invecchiamento. Vi ringrazio per averci esposto a questa carrellata di possibili trattamenti. Ricordiamo, altra cosa che abbiamo imparato oggi, grazie a voi, che bisogna cominciare giovani, perché bisogna cominciare a prevenire, i trattamenti, i protocolli sono tanti, mettendo insieme tante tecnologie e tecniche diverse, dal pilin al laser, alla biorivitalizzazione, con l'acido ialuronico, l'abbiamo citato, altro grande protagonista che un po' è cambiato nei mesi, io vi invito a tornare a trovarmi, perché gli argomenti di medicina estetica e di chirurgia plastica sono tantissimi, quindi vi aspetto ancora in trasmissione, vi ringrazio per essere stati con noi, arrivederci ai nostri spettatori, alla prossima puntata. Grazie a lei. Grazie a tutti.